Nemmeno il Covid è riuscito a fermare uno degli eventi più attesi dagli amanti delle vette, torna il Lecco Mountain Festival e anche se l'emergenza coronavirus ha costretto a rinunciare due appuntamenti nelle piazze della città, la Rampega Boulder e il Mountain Street Food, rimandati al 2021, gli appuntamenti in calendario presso l'auditorium della Casa dell'Economia in Via Tonale a Lecco sono da non perdere. Il Lecco Mountain Festival, evento dedicato alla montagna e all'alpinismo, alla cultura e alle tradizioni dei territori montagni, e dunque pronto a sbarcare sulle sponde dell'Ario dal 15 al 17 ottobre per una seconda edizione di grande richiamo. Tra i protagonisti, Alessandro Bau, venerdì 16 ottobre racconterà per la prima volta in Italia la sua recente impresa alle tre cime di Lavaredo, la Via Space Vertigo aperta nell'agosto 2020. La serata inaugurale del Festival, giovedì 15 ottobre, sarà dedicata all'alpinismo lecchese che nel 2019 aveva esordito con le imprese della Cordata Ratti Vitali e nel 2020 celebrerà una ricorrenza molto cara ai lecchesi, i vent'anni della solitaria invernale della Via Solleder in Civetta di Marco Anghileri. Sarà un momento per ricordare l'indimenticabile bacio attraverso le sue imprese nel 2000, le sue montagne, la sua famiglia e i suoi amici. A chiudere la rassegna sabato 17 ottobre la consegna del premio stile alpino assegnato da una prestigiosa giuria composta da soli alpinisti alle ascensioni su ghiaccio e roccia più importanti messi a segno nell'anno appena trascorso. I nomi dei candidati verranno resi noti entro lunedì 12 ottobre. Ad aprire la serata di sabato sarà Serafino Ripamonti che racconterà la storia dei ragni di Lecco nei 30 minuti che precedono alla consegna del premio.